Nenè e Nenì di Luigi Pirandello Nenè aveva un anno e qualche mese quando il babbo le morì. Nenì non era ancora nato, ma già c'era, si aspettava. Ecco, se Nenì non ci fosse stato, forse la mammina, quantunque bella e giovane, non avrebbe pensato di passare a seconde nozze, si sarebbe dedicata tutta alla piccola Nenè, aveva da campare sul suo, modestamente, nella casetta lasciata dal marito e col frutto della sua dote. Il pensiero di un maschio da educare, così inesperta come lei stessa si riconosceva e senza guida o consiglio di parenti, né prossimi né lontani, ebbè la persuase ad accettare la domanda di un buon giovine che prometteva di essere padre affettuoso per i due poveri orfanelli. Nenè aveva circa tre anni e Nenì uno e mezzo quando la mammina passò a seconde nozze. Forse per il troppo pensiero di Nenì non badò che si potesse dare il caso da avere altri figliuoli da questo secondo marito, ma non trascorse neppure un anno che si trovò nel rischio mortale d'un parto doppio. I medici domandarono chi si dovesse salvare, se la madre o le creaturine, ma la madre, si intende la madre, e le due nuove creaturine furono sacrificate. Il sacrificio però non valse a nulla perché dopo circa un mese di strazzi e atroci la povera mammina se ne morì anche lei. Così Nenè e Nenì restarono orfani anche di madre con uno che non sapevano neppure come si chiamasse né che cosa stesse a rappresentarli in casa loro. Quanto al nome, se Nenè e Nenì lo volevano proprio sapere, la risposta era facile, Erminio del Donzello si chiamava ed era professore, professore di francese nelle scuole tecniche. Ma quanto a sapere che cosa stesse più a far lì, ah, questo non lo sapeva nemmeno lui, il professore Erminio del Donzello. Morta la moglie, morte prima di nascere le sue creature gemelle, la casa non era sua, la dote non era sua, quei due figlioli non erano suoi, ma che stava più a farli, se lo domandava lui stesso. Ma se ne poteva forse andare? Lo chiedeva con gli occhi rossi e quasi smarriti nel pianto a tutto il vicinato che, dal momento della disgrazia, gli era entrato in casa da padrone, costituendosi da sé tutore e protettore dei due orfanelli, di che lui forse si sarebbe dichiarato gratissimo se veramente il modo non lo avesse offeso. Sì, sapeva che molti, purtroppo, giudicano dall'apparenza soltanto e che i giudizi che si davano a lui forse erano iniqui addirittura, perché effettivamente la figura non lo aiutava troppo. La eccessiva magrezza lo rendeva ispido e aveva il collo troppo lungo e per di più fornito ad un formidabile pomo da damo, la sola cosa grossa in mezzo a tanta magrezza. E ruvi di baffi, ruvi di capelli, pettinati a ventaglio dietro gli orecchi e gli occhi armati di occhiali a staffa, poiché il naso non gli si prestava a reggere un più svelto paio di lenti. Ma, per Dio, da quel suo collo così lungo egli credeva di saper tuttavia cavar fuori una seducentissima voce e accompagnare le sue frasi dolci e gentili con molta grazia di sguardi, di sorrisi e di gesti, con le mani costantemente calzate da guanti di filo di Scozia che non si levava neanche a scuola impartendo le sue lezioni di francese ai ragazzini delle tecniche che naturalmente ne ridevano. Ma che nessuna pietà, nessuna considerazione per lui in tutto quel vicinato, per la sua doppia sciagura. Pareva anzi che la morte della moglie e delle sue creaturine gemelle fosse giudicata da tutti come una giusta e ben meritata punizione. Tutta la pietà era per i due orfanelli di cui in astratto si considerava la sorte. Ecco qua, il patrigno adesso senza alcun dubbio avrebbe ripreso moglie. Una megera, certo, una tiranna ne avrebbe avuto chissà quanti figliuoli a cui i nenè e i ninì sarebbero stati costretti a far da servi fin tanto che, a furia di maltrattamenti e di sevizie, prima l'una e poi l'altro sarebbero stati soppressi. Fremiti di sdegno, briviti d'orrore assalivano a siffatti pensieri uomini e donne del vicinato e impetuosamente i due piccini in questa o in quella casa erano abbracciati e inondati di lacrime. Perché il professore Erminio del Donzello ora, ogni mattina prima di recarsi a scuola per ringraziarsi quel vicinato ostile e dimostrar la cura e la sollecitudine che si dava dei due orfanelli dopo averli ben lavati e calciati e vestiti se li prendeva per mano uno di qua l'altra di là e li andava a lasciare ora in questa ora in quella famiglia tra le tante che si erano profferte. Era, si intende, in ciascuna di queste famiglie più delle altre caritatevoli e in pensiero per la sorte dei piccini era almeno una ragazza da marito e tutte, senza eccezione, tutte queste ragazze da marito sarebbero state mammine svisceratamente amorose di quei due orfanelli. perfida tiranna, spietata megera, sarebbe stata solo quell'una che il professore Erminio del Donzello avrebbe scelto tra esse. Perché era una necessità ineluttabile che il professore Erminio del Donzello riprendesse moglie, se l'aspettava di giorno in giorno tutto il vicinato e per dir la verità ci pensava sul serio anche lui. Eh, poteva forse durare a lungo così? Quelle famiglie si prestavano con tanto zelo di carità ad accogliere i piccini per adescarlo. Non c'era dubbio. Se egli avesse fatto a lungo le viste di non comprenderlo, tra un po' di tempo gli avrebbero chiuso la porta in faccia. Non c'era dubbio neanche su questo. E allora? Poteva forse da solo attendere a quei due piccini? Con la scuola tutte le mattine, le lezioni particolari nelle ore del pomeriggio, la correzione dei compiti tutte le sere. Una serva in casa? Beh, egli era giovane e caldo, quantunque di fuori non paresse. Una serva vecchia? Ma lui aveva preso moglie perché la vita di scapolo, quell'andare accattando l'amore non gli era parso più compatibile con la sua età e con la sua dignità di professore. E ora? Con quei due piccini? Vabbè. Novia. Era veramente una necessità ineluttabile. Alla prossima puntata. Tanto restiamo tutti a casa. Ci vediamo. Ciao.